Quando le donne si ribellano Le insegneremo a obbedire Vengono cancellate dalla storia Lasciala! Avanti! I viadisti sono terrorizzati quando le vedono Ma non questa volta Fammi uccidere da un uomo Non c'è nessun uomo qui Vogliamo liberare le donne, è il nostro obiettivo di vita Per il ciclo Cinema è Donna Maya Sansa Tu sei forte Red Snake Domenica alle 21 in prima visione con Iris Grazie a tutti